ciao a tutti oggi vediamo un piccolo suggerimento allora abbiamo il pirografo a penna come vedete e il pirografo a filo a filo perché le punte sono costituite da un filo di nickel cromo ecco il pirografo a penna entrambi questi due pirografi non hanno un interruttore e quindi io utilizzo una ciabatta dove inserisco le due spine che ha però l'interruttore quindi anziché mettere e togliere la spina ogni volta per accendere spegnere il pirografo io utilizzo il tasto accendo e spengo direttamente così in questo modo non devo sempre mettere e togliere la spina per accendere e spegnere lo strumento come probabilmente alcuni sapranno il pirografo a filo si scalda immediatamente passa la corrente attraverso questo filo metallico ed è subito in temperatura mentre il pirografo a penna per scaldarsi richiede ma un 56 minuti qui vediamo che la penna non lascia la punta non lascia nessuna traccia perché non è ancora calda mentre il pirografo a filo ci scalda subito un altro vantaggio del pirografo a filo è quello di avere un impugnatura più vicina e quindi più facilmente controllabile dalla mano mentre la punta del pirografo a penna è molto più lunga e la parte che scotta e che non posso toccare è molto più lunga qui vediamo che ancora non è caldo mentre il pirografo a filo è sempre alla giusta temperatura spero di esservi stata utile come suggerimento ecco qui rivediamo la ciabatta vi aspetto per i prossimi video e se vi interessano i pirografi sia a penna che a filo visitate il sito elettronicadidattica.com se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale per restare sempre informati ciao a tutti a presto